buongiorno a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale scusate il look da pazza ma ragazze c'è troppo troppo caldo le cicale come sempre ci fanno compagnia e questo è il video un piccolo video dove io vi vi racconto i prodotti che ho provato per quanto riguarda la skin card di farmacia lo sapete che avevo fatto un ordine su amica farmacia avevo acquistato un po qua e là per provare un po di prodotti da farmacia che mi hanno sempre sempre affascinato e quanto pare anche a voi allora non ho provato tantissime cose ma non voglio arrivare magari ai top flop da avere 800.000 prodotti e non riuscire a parlare di tutti nello specifico quindi vi ho diviso i prodotti ho cominciato ovviamente dalle basi quindi detersione struccaggio e tonico e man mano che comincio a provarvi divido i video vi faccio vedere come in questo caso partiamo subito da un prodotto che come prodotto in sé è un prodotto nì ma io lo ricomprerei solo per la profumazione è l'acqua micillare 2 in 1 di saugella all'interno contiene acido ialluronico e di glicerina e xylitolo in grado di formare un film invisibile sulla pelle che favorisce un naturale protezione cutanea e donna una profonda idratazione infatti dice detergente idrata fino a sei ore allora ragazzi che un'acqua micillare vada idratare mi sembra un po impossibile visto che l'acqua micillare va sempre risciacquata sia salviettina e struccante sia acqua micillare dove c'è scritto proprio grande come una casa non sciacquare voi dovete sciacquare perché all'interno contiene dei tè insattivi questi sono 200 ml di prodotto 6 mesi di pao e è un prodottino che in offerta io ho acquistato a 10 euro all'interno ovviamente troviamo l'acqua acido ialluronico poi troviamo anche l'estratto di camomilla l'acqua di camomilla e l'estratto di moringa diciamo che non è un prodotto bio ma stiamo parlando di prodotti da farmacia spero che la lavatrice non mi dia fastidio che mi piace tantissimo il profumo ha una profumazione buonissima mi ricorda tantissimo quando mio fratello era piccolo e mia mamma utilizzava i prodotti per i bambini tipo cambio panolino una profumazione molto delicata leggermente talcata non dà assolutamente fastidio a livello olfattivo o anche proprio dermatologico però come acqua micellare ragazza funziona veramente poco nel senso che fa veramente veramente fatica a struccare gli occhi fa fatica a struccare il mascara quindi se pensate di acquistare un'acqua micellare in questo formato che poi sono 200 ml molto piccolo e il prezzo è un po' altino non ve la consiglio per il viso invece si comporta leggermente meglio perché un'acqua micellare sia acquosa ma leggermente più vischiosa perché si percepisce all'interno la presenza di acido ialuronico e della glicerina infatti è molto molto scorrevole sul viso strucca perfettamente i residui del trucco ma non un trucco importante se avete la cipria to solo il blush ok quello ve lo strucca ma se avete il primer e il fondotinta questo veramente fatica oppure dovete utilizzare veramente tantissimo prodotto io come la utilizzo solitamente la utilizzo nella skin care pomeridiana oppure al mattino come una coccola perché ragazze voi non vuoi 10 euro ok soldi sprecati sono migliori di acqua micellare in giro ma questa è veramente una coccola non ho mai trovato un acqua micellare così confortevole così piacevole sul viso ma anche il livello di benessere che io sicuramente la ricomprerò se la trovo in offerta per il profumo per l'utilizzo mattutino ovviamente se non sapete come smaltire le acque micellare che non vi piacciono e soprattutto se non vi danno fastidio proprio alla pelle si può utilizzarla anche al mattino prima del detergente fatta una bella passata per togliere i visivi della notte insomma a me sta piacendo ovviamente non è stravalida per rimuovere il mascara quindi per il suo vero utilizzo l'utilizzo principale ma a me sta piacendo proprio per la profumazione per il comfort quindi io comunque sono stata contenta di averlo provato un altro prodotto che mi sta piacendo veramente tanto è l'olio struccante di uriage non so se voi vi ricordate quando l'ho acquistato e ho detto ma a me mi è sembrato di vedere nella foto la confezione più grande effettivamente su amica farmacia dovete stare molto attenti alla quantità perché spesso sia il formato da 500 ml che da 100 ml hanno lo stesso prezzo infatti io col pensiero avevo acquistato quella grande perché avevano lo stesso identico prezzo 12 euro e qualcosa ovviamente quella da 500 ml conveniva molto di più rispetto a questa di 100 ml ma comunque sono contenta perché ho avuto modo di provare comunque il prodotto magari se mi prendevo un boccettone enorme non mi piaceva che cosa me ne facevo questa è questo è un olio appunto struccante che se siete fanatiche dell'inch ragazza al primo posto contiene la paraffina liquida questa è una cosa che mi disturba leggermente ma proprio l'ingrediente mi sa è la paraffina non perché è un prodotto con un inchi poi all'interno contiene l'olio di girasole l'olio di fragola è un olietto ragazze veramente veramente molto molto valido come prodotto si percepisce all'interno la presenza di paraffina liquida perché è un olio scivoloso è un olio io lo chiamo sfuggente perché quando lo applicate vi scorre il viso non è la stessa sensazione quando utilizzate un olio o una miscela di oli puro comunque la differenza si percepisce si percepisce se siete soliti ad utilizzare gli oli detergenti quindi con la presenza di paraffina liquida è più scivoloso strucca veramente molto molto bene gli occhi e il viso ragazze mi piace da impazzire lo utilizzo perché sopra perché durante la giornata comunque un protezione solare un solare sul viso quindi va i filtri vanno sciolti con un prodotto olioso e poi con un prodotto schiumogeno e questo prodotto mi piace strucca non mi dà fastidio né agli occhi né alla pelle ha una profumazione molto molto buona sa di buono è quasi fiorita l'unica cosa che ecco se cercate un olio da struccarvi gli occhi e non volete un olio che vi appanni gli occhi quasi tutti gli oli appannano gli occhi ragazzi e lo fa anche questo una volta che avete massaggiato sul viso avete sciolto con movimenti delicati il trucco sul viso e sul sugli occhi aggiungete un po di acqua si trasforma in un latte si sciacqua perfettamente non vi lascia comunque la patina unta ma la presenza di paraffina liquida comunque vi lascia questa sensazione di aver utilizzato qualcosa che non è perfetto che non è è stato perfettamente sciacquato anche se avete passato 10 volte il viso sotto l'acqua come prodotto in sé mi piace chiudo un occhio tranquillamente su un linci se lo ricomprerei assolutamente sì perché come prodotto da farmacia rispetta la pelle non mi ha mai dato fastidio svolge egregiamente il suo il suo lavoro e sostanzialmente ne basta poco non non ho utilizzato metà boccetta in una volta comunque l'ho utilizzata da un bel po' quindi è un prodotto super super consigliato ora ragazzi passiamo ai detergenti quello che ho notato io nei detergenti che ho provato da farmacia voi dovete sapere che io sono veramente novellina in queste in questo mondo perché se ho utilizzato qualche prodotto ma un prodotto tipo la mousse di codalie avevo utilizzato il gel detergente di joe non mi sono mai imbattuta in queste tipologie di prodotto che vi sto per mostrare ora il primo gel che ho provato è il gel idratante di CeraVe avevo preso il formato da 88 ml senza sapone senza fragranza con tre ceramidi essenziali un prodottino che mi ha sorpreso veramente che all'inizio ho fatto fatica a capirlo o a farmelo piacere perché la prima volta che l'ho utilizzato non mi ha colpito particolarmente innanzitutto non è un gel ma è quasi una crema detergente cioè manca veramente pochissimo a sfiorare proprio la densità di un latte detergente ha un colore lattiginoso quindi non si capisce se è un gel se è un latte detergente rimane un po' così chi è abituato ad utilizzare il bio ovviamente quando lo vede dice bah sembra proprio la consistenza classica siliconica effettivamente lo è non è che ci possiamo nascondere dietro un dito non fa assolutamente schiuma io quando lo applico sul viso ragazzi percepisco subito durante il massaggio la sensazione di calore cosa che non penso che sia normale ma non è neanche una sensazione fastidiosa che mi ha provocato dei danni effetti collaterali e poi sento questa scorrevolezza che io non percepisco nei prodotti con un boninci una volta che risciacquo mi lava molto molto bene il viso non fa assolutamente schiuma quindi se siete solite a prodotti che fanno schiuma questo prodotto non vi fa schiuma neanche se utilizzate boccette intera in una volta quindi utilizzate poco prodotto che non serve tanto ha un ottimo potere detergente ovviamente non è indicato per utilizzarlo nella doppia detersione perché non fa schiuma ovviamente non è un prodotto struccante ovvio se avete quel filino filino proprio di residuo ma piccolo piccolo ve lo toglie ma se avete proprio il viso sporco di trucco no è molto delicato è pensato per pelli sensibili è un detergente idratante sì per quanto un detergente può idratare perché vi lascia quella sensazione di pelle pulita ma morbida vi lascia come se vi lasciasse una patina sopra la pelle protettiva non irrita assolutamente la pelle io ho passato qualche giorno complice al caldo che mi è venuto un prurito sul viso e questo è stato il mio detergente preferito perché non mi andava a irritare ma allo stesso tempo mi andava a linire a calmare questo prurito che avevo sul viso dato dai sbalzi dai sbalzi dal sole ed è un prodotto che sto utilizzando che poi scopresca quel prodotto buono 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 per una pelle diversa da pelle secca potrebbe dare fastidio perché è un detergente presente è un detergente che fa quello che promette quindi sostanzialmente se è un detergente idratante vi dà la sensazione di avere la pelle idratata ovviamente dopo un po' questa sensazione quasi di patina sul viso va in secondo piano riuscite poi ad applicare tonico ma sul momento non sentite assolutamente il bisogno e necessità di niente sopra ma proprio di niente a volte pensavo mi dà una sensazione come se non avessi lavato il viso in realtà il viso l'ho lavato perché poi quando passo il tonico non trovo niente quindi pelle sensibile, delicata, arrossata dopo una giornata di mare una pelle con dermatite una pelle stressata che non tollera niente neanche in testi attivi questo è un prodotto fantastico che vi consiglio un altro detergente che sto utilizzando è questo gel detergente super idratante con acido ialuronico vitamina C stabilizzata e acqua di camomilla di LR Wonder Company allora di questo brand io in realtà non sapevo neanche che era un made in Italy invece è un'azienda italiana all'interno contiene acido ialuronico vitamina C l'acqua di camomilla se siete fanatiche dell'inci non è un buon inci contiene all'interno anche carbomer e contiene pochissimi pochissimi tensi attivi all'interno e infatti mi sembrerà poco utilizzato perché sono 200 ml ma ragazzi ne ho utilizzato tantissimo è un gel molto molto denso ma non è uno di quei gel che si aggrappa la pelle super veschioso che dice mo come io me lo sciacco questo coso assolutamente no anzi se ce l'avete in casa e vi va di provarlo sappiate che non bisogna esagerare col prodotto perché la prima volta che l'ho utilizzato mi veniva a voglia di utilizzare metà boccetta perché anche questo non vi dà assolutamente la sensazione di lavare non vi dà la sensazione di essere un prodotto lavante perché anche questo non fa schiuma è una polpa vedete sembra proprio una polpa non scende è una polpa con la quale voi vi lavate il viso praticamente e non vi dà assolutamente nessuna sensazione di pulizia nel massaggio vi sembra di massaggiare un prodotto che non è pensato per essere associato a un prodotto da pulizia una volta che si sciacqua si sciacqua facilmente senza fare schiuma senza lasciarvi residui di sapone senza insaponarvi la pelle però vi lascia la pelle molto detersa anche in questo caso è un detergente delicato è un detergente adatto per la detersione al mattino perché ha questo gel fresco energizzante la profumazione potrebbe stuccare perché ha una profumazione che personalmente a me non piace non saprei il perché di che cosa sa ma ha una profumazione mix fiore frutta non dico nauseante ma quasi però come detergente energizzante va a pulire molto bene va a illuminare l'incarnato non in maniera eccessiva utilizzate oggi questo domani avete la pelle wow però devo dire che è un ottimo detergente ne basta poco quindi il prezzo si ammortizza nel tempo non è assolutamente aggressivo qua dice che è idratante sì per quanto possa idratare un detergente diciamo che non è un detergente che va a seccare la pelle ma proprio per niente anzi vi lascio la pelle morbida e colposa però ragazze attenzione perché veramente quando utilizzate questo prodotto non vi sembra di lavarvi il viso quindi se cominciate ad utilizzare questi tipi di prodotti dovete uscire un po' dalla vostra comfort zone altrimenti non vi piacerà neanche uno l'ultimo prodotto che ho provato ovviamente è un tonico non potevo assolutamente resistere al fascino del tonico sapete che io vorrei aprire tutte le boccette magiche che ho perché per me i tonici e i sieri sono delle pozioni di bellezza ho voluto utilizzare appunto il tonico abbinato al suo gel detergente e quindi il tonico all'acido ialuronico vitamina C stabilizzata e acqua di kiwi potente energizzante quindi è un tonico idratante antiossidante e energizzante stiamo parlando di 200 ml di prodotto made in Italy ha appunto quelli estratti che io vi ho nominato prima e che ci sono nei claim perché ince è veramente molto molto piccolo l'acido ialuronico lo troviamo al quarto posto senza alcol anche se qua c'è una sorta di derivato dall'alcol ma alcol puro non c'è e poi ha anche il profumo profumo uguale e identico all'altro che io assolutamente non tollero ragazze è un tonico dotato dal suo buchino all'interno quindi vi evita gli sprechi del prodotto io ho utilizzato un bel po' e calcolate che ho scusate il piede si è addormentato calcolate che ho in uso altre tre tonici sono quasi alla fine quindi li ho pure alternati insieme a questo come ho fatto a capire gli effetti ovviamente tutti i prodotti io li utilizzo in una determinata routine e solo questi prodotti tutti tutti i giorni quindi io la differenza la vedo ovviamente questo è un tonico che sinceramente per la profumazione non mi sta piacendo per niente è un tonico molto presente d'impatto anche se non è in gel ma è prettamente acquoso ma quando lo applico sul viso è un tonico che idrata veramente è un tonico che va a riequilibrare la pelle è un tonico che va tantissimo a compattezza vi dà questo senso di compattezza ma allo stesso tempo lo trovo astringente non capivo come mai infatti poi sono andata a informarmi sulle proprietà del kiwi il kiwi oltre ad essere antiossidante è un lenitivo ma è anche un attivo che può essere usato in determinata formulazione come un astringente un purificante molto molto delicato e infatti io l'ho trovato leggermente astringente proprio sentivo che in determinata zona del mio viso aveva un effetto più asciugante tra virgolette rispetto all'altra zona quindi è un buonissimo tonico perché va a rispettare le zone che necessitano di idratazione e allo stesso tempo va a purificare diciamo non purificare ma dare un effetto astringente alle zone che hanno bisogno di meno idratazione non è assolutamente pesante questo ve lo posso dire ne basta poco prodotto perché veramente sentite che il prodotto va a idratare che ne basta proprio poco non serve lavarsi nel tonico e ve lo dice una che si lava nel tonico quindi è un buonissimo tonico quindi il prezzo si ammortizza tranquillamente nel tempo perché stiamo parlando di 12 euro in offerta sempre trovato da Amica Farmacia un tonico che idrata che compatta la pelle e ha un effetto leggermente astringente sulla mia pelle che è una pelle normale barra secca che adesso sta veramente si sta asciugando andando avanti con l'età tra virgolette sta diventando sempre sempre più secca ottimo se lo ricomprerei no perché la profumazione non è di mio gradimento anche questo lo utilizzo al mattino e al pomeriggio durante la mia skin care pomeridiana non mi ha dato nessun fastidio non mi è andato a irritare ecco quando avevo quel momento di pelle irritata pelle che soffriva di prurito questo mi ha dato anche a lineare ribilanciare la pelle però ad essere sincera ragazze non è che il tonico ha fatto il miracolo sinceramente in quella situazione ha fatto il miracolo questo detergente perché ho visto veramente la differenza se volete provarlo sicuramente in offerta a un prezzo abbordabile a che tipo di pelle è adatto sicuramente a una pelle secca normale mista ma mista proprio se volete utilizzare un tonico idratante dopo una pulizia del viso strong dopo una maschera purificante strong o alla sera quando c'è molto caldo non volete utilizzare nient'altro perché è un tonico che idrata veramente cioè all'interno all'acido ialluronico che per carità non ha quel peso molecolare da andare in profondità ma lo strato più superficiale del viso lo va a idratare in maniera eccellente se mi è andato a illuminare la pelle questo no l'aspetto illuminato è non pervenuto e niente ragazze fatemi sapere se voi avete già provato qualche prodotto di quelle che vi ho mostrato io sono molto soddisfatta di quello che sto provando è un mondo che sto scoprendo pian pianino quindi sono ancora più critica faccio ancora più caso agli effetti con questi prodotti e sono super super contenta perché il beauty è la mia passione quindi nessuno nasce imparato e non si smette mai di imparare quindi è una cosa bellissima fatemi sapere se avete già provato qualcosa se vi ho incuriosito io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima ciao a tutti